Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contrattirlo, e quando tace il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa, nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano.